Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, signori Ministri, colleghi cittadini, siamo qui per valutare se lei, Ministro Alfano, dopo i fatti gravissimi che tutti noi ben conosciamo, abbia ancora la fiducia di quest'Aula, oppure no. Ma io dico che è troppo comodo, signor Ministro, venire solo sfiduciato da quest'Aula. Lei, signor Ministro, prima di presentarsi in quest'Aula, si sarebbe dovuto arrecare in Kazakistan e riportare in salvo la signora Shalabayeva con la sua bambina. Questo doveva fare, signor Ministro, e poi venire qui a chiedersi la fiducia. Ma mi rivolgo anche a voi, colleghi senatori. Molti di voi hanno già sottoscritto la mozione di sfiducia. Altri valuteranno se farlo al termine di questa discussione guardando alla propria coscienza. Mi rivolgo anche a voi per porvi delle semplici domande. In Senato ci stiamo occupando della terribile condizione della violenza contro le donne. Ci stiamo occupando delle norme contro il femminicidio. Abbiamo adottato all'unanimità la Convenzione di Istanbul. Come possiamo sorvolare sull'espulsione di una signora inerme e della sua piccola bimba di sei anni, espulsa verso un Paese dove sicuramente ha repentaglio la loro incolumità? Ma veramente ritenete che tutto quanto è successo possa essere considerato normale? Veramente ritenete che una sciagurata operazione come questa, che ha visto il coinvolgimento di almeno 50 uomini della Digos, aerei privati prenotati ancora prima della fine dell'udienza del giudice, passaporti autentici scambiati per falsi, anomale procedure d'espulsione? Veramente ritenete che tutto questo possa essere avvenuto senza coperture politiche di sorta? Veramente credete, colleghi senatori, che la recente venuta del dittatore Cazzacco nel nostro Paese, ospite in una villa di proprietà di un amico di Berlusconi, sia solo una coincidenza? E veramente credete che gli interessi economici legati al business di gas e petrolio, interessi che sembrano legare al Kazakistan, anche qualche politico di rilievo del nostro Paese, non abbiano nulla a che fare con i fatti in discussione? Io no. Io non lo credo affatto. Non lo credo affatto, cari colleghi. Io non credo affatto, per esempio, che il capo di gabinetto del Viminale, il prefetto Giuseppe Procaccini, stimato funzionario già ai tempi del ministro Maroni e cancellieri, ora di missionario, sia il solo e unico responsabile apicale per quanto avvenuto. Io non credo affatto, cari colleghi, che il ministro dell'interno Alfano non sapesse nulla di questa vicenda. D'un sol colpo, gentile signor ministro, siete riusciti a violare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, nella parte in cui indica che nessuno Stato contraente espellerà o respingerà in qualsiasi modo un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche. D'un sol colpo siete riusciti a violare l'articolo 10 della Costituzione, in particolare dove prevede che non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. E siete riusciti anche a violare l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove considera che nessuno può essere allontanato, espulso e stradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. In conclusione, gentili colleghi, credo che oggi sia una giornata molto importante per l'istituzione che ci onoriamo di rappresentare. Ci troviamo infatti di fronte ad un bivio. Possiamo scegliere di stigmatizzare fortemente quanto accaduto, sfiduciando il Ministro Alfano sulla base dell'articolo 95 della Costituzione, secondo il quale i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. Oppure potremmo fare come le tre scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano. Potremmo così oscurare le nostre coscienze ed arrivare a creare un pericoloso precedente per la libertà di tutti i cittadini. Se, malauguratamente, prevalesse questa seconda ipotesi, andremo a umiliare questa importante istituzione che è il Senato della Repubblica, in maniera non molto dissimile da quanto avvenne alla Camera non troppo tempo fa. Mi riferisco a quell'episodio in cui, per volere di Berlusconi per salvare il Governo, si arrivò perfino a votare che Ruby fosse la nipote di Mubarak. Gentili colleghi, mi rivolgo dunque a voi e finisco. Mi rivolgo alle vostre coscienze perché questa grave umiliazione non abbia più a succedere. Grazie. Applausi Grazie. 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 Eri heat hatto. Grazie. Grazie. itz